Fratelli d'Italia si muove a Montecatini. Tutto ha preso il via dall'interrogazione nell'Assemblea regionale dei consiglieri Alessandro Capecchi, Vittorio Fantozzi e Sandra Bianchini riguarda i locali estermali in via della Salute in via Marconi. Locali che sono in parte di proprietà dell'Asla Toscana Centro e che vertono oggi in uno stato di forte degrado senza alcun progetto concreto di riqualificazione. Domande pervenute prima nei banchi del Consiglio regionale e poi sulle strade del comune Valdinievolino dove il consigliere regionale Capecchi si è riunito con l'esponente meloniano in consiglio comunale di Montecatini Alessandro Sartoni per esporre la situazione e chiedere risposte all'Asla Toscana Centro e alla Giunta Gianni. Si sperava che fosse l'inizio di un rilancio almeno degli immobili acquistati dalla USL ma a distanza di una dozzina d'anni non è successo niente. Per cui mentre si è da una parte il tema la torretta, il Tettuccio, le Tamerici e compagnia cantante, sempre l'attenzione di tutti, è legato purtroppo alle vicende concordatari delle termine di Montecatini, questi immobili qua potrebbero essere oggetto di investimento domattina o esserlo stato un anno fa, purché l'Asla avesse messo nei suoi programmi l'investimento, la progettazione con un'idea di fondo per appunto dare una funzione coerente con l'attività dell'Asla a questi ambienti. Nella campagna elettorale del 2020 si parlava di una possibile razionalizzazione e concentrazione qui di tutti i servizi territoriali, della sanità soprattutto della città di Montecatini ma questo progetto non ha mai visto la luce, anzi la mancanza secondo noi di progettazione ha impedito anche di candidare questo immobile per esempio al famoso PNRR. Quindi chiediamo un'interrogazione che ho depositato questa mattina conto alla regione che è il soggetto in qualche modo al controllo della Asla, che intenzioni abbia la regione da una parte soprattutto l'Asla dall'altra per recuperare questo patrimonio immobiliare che oltre ovviamente a una mancata valorizzazione in termini sanitari costituisce evidentemente anche un limite oggettivo allo sviluppo della città di Montecatini e un brutto biglietto da visita.